Ciao a tutti e a tutti, bentornati e bentornati in un nuovo blog, sì se notate che mi sono truccata è la verità. Allora, ieri che era lunedì siamo stati praticamente a lavorare praticamente in East4Cup e nulla di che. Io ieri, come avete visto, ero alle marcelli di nuovo e nulla di che, a parte quello, nulla. Sono stata abbastanza bene là, solo che non abbiamo quasi fatto niente perché non c'era granché da fare. Oggi vedremo un attimo. Ieri sono state le marcelline e poi al pomeriggio siamo stati in East4Cup e si è messo pure a piovere, mamma mi è venuta a prendere di nuovo e oltre quello nulla. Allora, a parte il fatto che, sì, che poi mamma mi è venuta a prendere alle 4 più o meno, nulla di che, praticamente tutto normale. Sarei tornata a casa da sola ma voleva venirmi a prendere, quindi ho detto, se mi vuole venire a prendere venga pure perché tanto non l'ho obbligo. Allora, per oggi è tutto, lasciate like, iscrivetevi al canale se avete queste giornate per caso noiose. Io vi mando un bacione e noi ci vediamo domani con un nuovissimo blog. Iscrivetevi per unirvi all'AsaFamily, quindi ciao!